la fisica che ci piace podcast show nuova puntata bentrovati benvenuti questa puntata l'ho intitolata il viaggio di chi ama la scienza ed è un viaggio che vi raccomando di fare di viverlo con la vostra famiglia con gli amici con la scuola io non so chi sta ascoltando questa puntata chi è chi siete ma chiunque voi siate vale la pena viaggiare ed andare a spendere un paio di giornate anche un po di più nel laboratorio di fisica delle particelle più grande più ricco più completo e più emozionante al mondo il cern in questa puntata vi parlo del mio rapporto personale con il cern e di com'è nata di com'è nato questo innamoramento perché effettivamente io mi sono innamorato di quel posto e di sei diverse suggestioni immagini che io ho nella mia mente e che ritornano vive dentro di me ogni volta che torno al cern sì perché effettivamente il cern ormai è un posto conosciuto per me perché ci sono stato per la prima volta quattro anni fa per un corso di formazione come prof come insegnante è stata la mia prima volta appunto e non è stata l'ultima ci torno ci torno un paio di volte all'anno o meglio ci tornavo insomma sappiamo tutti che questa pandemia sta bloccando tutti quanti ma sicuramente tornerò ed è un posto che ho imparato a conoscere piano piano e che ha dei posti che ha dei luoghi assolutamente da visitare e delle immagini che sono rimaste dentro di me perché particolari perché hanno lasciato un segno per motivi differenti però intanto prima di raccontarvi queste sei suggestioni che cosa significa cern e che cosa è il cern allora cern sta per conseglie europee pur la recherche nucleare e la organizzazione europea per la ricerca nucleare nata negli anni 50 dopo la seconda guerra mondiale con l'obiettivo di riunire l'europa sotto il nome dell'amore per la scienza dell'amore per la ricerca scientifica beh dobbiamo immaginare che in quel periodo il mondo si rialzava si risollevava da terra e raccoglieva intorno a sé i pezzi delle nazioni delle popolazioni distrutte dalla brutta cosa che è stata la guerra mondiale la seconda guerra mondiale e tre scienziati fra cui un italiano amaldi decidono di cercare un posto in europa per riunire sotto un unico tetto la scienza la ricerca quindi l'europa unita per fare scienza così nasce il cern e così continua quindi loro individuano questo campo abbandonato insomma per questo terreno al confine fra il cantone svizzero francese e la francia in un piccolo paesino che si chiama meren meren alla fine un soborgo di ginevra e lì nasce questo laboratorio nasce piano piano dalla fantasia dalla voglia di costruire qualcosa e adesso credetemi è qualcosa di immenso di grandissimo perché il cern ospita centinaia di diversi esperimenti migliaia di scienziati che fanno ricerca al cern si viaggia indietro nel tempo al cern ci sono le temperature più fredde dell'universo al cern si sperimentano gli stati della materia sconosciuti al cern si guarda la scienza sperimentale nuda così com'è al cern si fabbrica ogni anno l'elemento più prezioso al mondo queste sono sei cose anzi sono scusatemi cinque cose che adesso vi racconterò durante le sei suggestioni che vi proporrò quali sono queste sei suggestioni allora ve le dico intanto ve le ve le nomino così velocemente la prima sono i ristoranti presenti al cern adesso vi dirò meglio la seconda è l'italianità al cern la terza sono i laboratori la quarta è dedicata ai musei la quinta è dedicata ai dati alla raccolta dati e la sesta l'ultima è dedicata al grande acceleratore circolare l hc il large adron collider partiamo dai ristoranti vi sembrerà strano ma io parto da raccontarvi i ristoranti presenti al cern sono due i più grandi il ristorante 1 e il ristorante 2 vi parlerò dell'uno e voi direte ma perché mi stai parlando dei ristoranti intanto perché a me piace mangiare è un po strano è così e perché al ristorante io ho visto due cose continuo a vedere due cose le centinaia di persone che entrano fanno la fila con il loro vassoio si mettono in cassa pagano e si siedono e mangiano queste centinaia di persone che vengono da le decine di esperimenti di building sparsi per il cern sono giovani sono premi nobel sono ricercatori sono scolaresche che sono lì magari in gita per visitare il cern sono professori sono persone curiose è il mondo che circola in quel ristorante che si siede a tavola e le lingue che tu senti parlare camminando perché credetemi il mio amore per le lingue molti lo sanno chi mi segue sul su youtube lo sa quanto io quanto io ami l'acquisizione delle lingue in particolare l'inglese io per la prima volta ho riscoperto il piacere mi sono detto devi tu devi cominciare a parlare questa lingua lo devi fare perché tu cammini per il restaurant e senti parlare tutte le lingue del mondo intanto e se vedi seduti allo stesso tavolo tante persone che capisci venire da diverse parti del mondo unite sotto un'unica lingua che molto spesso è l'inglese tante altre volte lo spagnolo perché alla fine senti parlare molto lo spagnolo e quindi questa è la prima immagine se andrete al cern non dovete mancare di fare un pasto al restaurant numero uno fatelo e andate allora di punta fate la fila perché sarà bellissimo vivrete un'emozione particolare e sentirete parlare questa gente dei loro esperimenti credetemi e potrà capitare di scoprire di sedersi anche con qualche scienziato che a capo degli esperimenti o magari di incontrare qualche premio nobel la seconda suggestione l'italianità al cern ci sono tutti scienziati ricercatori professori speaker da tutto il mondo ma ci sono tanti italiani credetemi tantissimi allora gli stati membri attualmente sono più di 20 quindi l'italia dovrebbe rappresentare un ventesimo dovrebbe rappresentare appunto un ventesimo delle persone che lavorano studiano al cern ma non è così possiamo dire con grande orgoglio che l'italia rappresenta fra gente che fa il suo dottorato di ricerca lavora ed è presente al cern il 13 per cento in questo momento quindi stiamo dicendo che c'è tanta italianità beh vogliamo nominare un italiano su tutti presenti al cern il direttore generale fabiola gianotti al suo secondo mandato italiana italiana ragazzi e viva e viva l'italia e ricordatevi una cosa il cern non è un laboratorio svizzero il cern è un organizzazione internazionale quindi è tanto italiana quanto francese quanto tedesca quindi lì siamo in territorio internazionale la terza suggestione è dedicata proprio ai laboratori e ve ne nomino due in particolare l'anti matter factory ovvero la fabbrica dell'antimateria che è il building dove fra l'altro è presente anche un deceleratore di particelle oltre che un acceleratore perché lì all'anti matter factory si fabbrica come vi dicevo prima la l'elemento più prezioso al mondo non è l'oro non è il platino e l'antimateria sì l'antimateria costa tantissimo costa veramente molti milioni di fan di franchi e quindi di euro se volete fabbricare l'antimateria e al cern ogni anno si fabbrica un nanogrammo di antimateria cioè 10 alla meno 9 grammi di antimateria all'anno è il posto in cui si fabbrica più antimateria in particolare si decelerano antiprotoni che vengono in qualche modo uniti agli anti elettroni ovvero i positroni per ottenere l'antidrogeno e per studiare quest'antidrogeno per studiarne le caratteristiche l'antimater factory è visitabile assolutamente quindi andate andate fateci fateci un giro assolutamente un altro posto bellissimo di cui vi voglio parlare è l'esperimento uno dei grandi esperimenti che sono sottoterra in uno dei quattro punti in cui le particelle collidono ovvero alice è un esperimento in cui si studia il plasma quark gluonico cioè uno stato della materia che è prestato presente quindi che era presente poche milionessimi di secondo dopo il big bang ovvero i quark che normalmente sono uniti a formare particelle divisi separati in uno stato di plasma viene studiato questo tipo di plasma appunto quark gluonico perché si riescono a fare collisioni ad una temperatura in diciamo ad una densità talmente elevate da ricostruire quelli che erano gli stati di energia appena dopo il big bang ecco perché vi dicevo prima al cern si torna indietro nel tempo ancora avanti a raccontarvi la quarta suggestione sono i musei visitate microcosm al cern visitate globe e visitate il building 300 dove è custodito il vecchio sincro ciclotrone che è stato quel primo quel primo macchinario con il quale i coniugi fidecaro marito e moglie italiani e torniamo all'italianità scoprono alla fine degli anni cinquanta il pione una particella che costerà al cern e a loro i le testate giornalistiche di tutti i giornali in tutto il mondo quindi il cern viene fuori per la prima volta come titolo sulle testate giornalistiche alla fine degli anni cinquanta con due italiani che cosa meravigliosa microcosm e globe invece sono due exhibition appunto due musei diciamo nella maniera italiana dedicati microcosm all'esperienza interattiva su come si fa fisica al cern e su come si fa ricerca e globe invece ad una sorta di viaggio indietro nel tempo partendo dal big bang fino alla formazione delle galassie quindi dell'universo quinta e penultima suggestione dedicata ai dati chi va al cern non può immaginare come siano importanti gli informatici gli ingegneri informatici coloro che raccolgono custodiscono e analizzano i dati perché il cern non è solamente il posto in cui i fisici trovano uno scopo per cui lavorare per la fisica contemporanea o i matematici ma tanti 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 informatici pensate che c'è un building completamente dedicato a tutto quello che riguarda i dati fra l'altro i dati che le collisioni delle particelle producono non vengono solamente fra virgolette stoccati al cern ma in centinaia di punti intorno al mondo c'è una sorta di rete intorno al mondo che custodisce i dati che vengono fuori dalle 800 milioni di collisioni al secondo che avvengono appunto al cern per poter studiare i misteri della fisica e quindi poter continuare ad indagare su quello che ancora la fisica non ha scoperto ultima suggestione dedicata a lui a lui il large adron collider sarete fortunati se avrete la possibilità di scendere a 100 metri sottoterra appunto a visitare ad entrare nei tunnel che custodiscono questo grande acceleratore circolare ragazzi lungo 27 chilometri in quattro punti diversi di questi 27 chilometri ci sono i grandi quattro i principali quattro esperimenti due di quali hanno scoperto e hanno annunciato nel 2012 il bosone di x la scoperta appunto del bosone di x questo è il cern è un posto meraviglioso dovete visitarlo assolutamente avete già visitato il cern siete già stati commentate questo podcast ditemi un po se una di queste sei suggestioni è una fotografia che conservate anche voi nel vostro cuore o se magari avete altre suggestioni e mi raccomando continuate a commentare anche su argomenti che volete raccontati in questo podcast visitate il cern scrivendo su internet www.cern.ch slash visits in questo momento non è possibile visitarlo per motivi che conoscete ovvero per la pandemia ma presto si potrà riprendere a visitare il posto più bello per la scienza il viaggio di chi ama la scienza dalla fisica che ci piace il podcast show è tutto alla prossima